Giovedì il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnativa nei confronti della legge regionale del 9 giugno 2016, la numero 31, quella sui balneari per intendersi, in applicazione della direttiva Bolkstein che impone l'azzeramento e nuove aste per le licenze demaniali. La legge toscana definisce specifiche procedure per le richieste di concessione dei gestori degli stabilimenti intenzionati a fare investimenti per la qualificazione dell'offerta di servizi per la balneazione, prevedendo, nel rispetto del quadro normativo nazionale, la possibilità di poter operare fino al 2036. Non si conoscono ancora le motivazioni del ricorso governativo, anche se si può supporre che sia perché l'applicazione di una direttiva europea spetta allo Stato. Solo che la legge dello Stato ancora non c'è e la Toscana, nell'ambito delle sue competenze, aveva provato a dare qualche certezza ai balneari, stabilendo, ad esempio, che il nuovo concessionario debba riconoscere a quell'uscente il 90% del valore aziendale. Lo scopo era, insomma, garantire i balneari almeno sugli investimenti fatti finora. Vedremo quali saranno le esatte motivazioni del ricorso e quali provvedimenti adotterà la Regione. Intanto, sempre in tema di ricorsi, la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Toscana su un altro contenzioso con lo Stato. Questo riguardava la legge regionale con la quale si prevede la sospensione del rilascio dei permessi di ricerca geotermica per la realizzazione di pozzi esplorativi. Il Governo aveva eccepito, è materia mia, la consulta gli ha dato torto. La sospensione della durata non superiore a sei mesi è stata prevista dalla Regione per determinare il numero massimo di pozzi esplorativi e la loro distribuzione territoriale. La legge, spiega la Regione, aveva comunque lo scopo di raggiungere gli obiettivi energetici che sono stati stabiliti per la Toscana, il 16% di consumo da fonti rinnovabili termiche ed elettriche sul consumo energetico complessivo.